Messeri, messeri, finalmente abbiamo la data di uscita ufficiale e soprattutto il prezzo delle nuove console di Microsoft di Xbox Series X e Xbox Series S. Questa è la novità più succosa e più intrigante della quale andremo a parlare tra poco. Finalmente perché insomma erano diversi mesi che stavamo lì a dire ma quando escono questi prezzi, ma quando esce la data di rilascio, di uscita ufficiale di queste nuove console di Microsoft e anche di Sony. Peraltro Sony ancora ci deve far sapere molto, ci deve far sapere sia il prezzo che l'uscita, quindi ancora ci fa tendere e non poco la compagnia, la compagnia nipponica. Però accantoniamo un attimo Sony che appunto ci lascia nel limbo e parliamo di Microsoft con Xbox Series X e Xbox Series S. Il prezzo delle due console è di rispettivamente per la versione più potente e completa che è quella Series X 499€, mentre per la versione depotenziata che però ci consentirà ovviamente di vivere in maniera completa tutta la line up di questa generazione, della generazione che sta per aprire battenti. È una cosa molto intrigante quella fatta da Microsoft perché avere una console entry level a 300€ è una mossa che per me risulta molto azzeccata perché oltre al prezzo che è sicuramente abbordabile e che quindi stuzzicherà molti utenti, molti appassionati a prendere in considerazione proprio di comprare la Series S per insomma un risparmio economico sicuramente notevole, è anche il fatto che questa Series S a livello di design presenta una maggiore maneggevolezza, una maggiore comodità perché è molto più piccola rispetto alla Series X e anche quindi questo è un punto a favore perché insomma avere una console più compatta, più maneggevole, più facile anche da trasportare rappresenta sicuramente anche da questo punto di vista un punto a favore e quindi questa è una mossa sicuramente inaspettata e che per me risulterà vincente anche perché non credo che le console di Sony, la PS5 con il lettore ottico e quella priva di lettore, possano comunque raggiungere quei prezzi perché comunque quella senza lettore ha la stessa potenza di fatto di quella vista di lettore per cui la differenza di prezzo difficilmente sarà di 200€, potremmo avere 100€ in meno quindi avremo 499€ per la PS5 con il lettore e 399€ con quella senza lettore, per cui questa mossa è sicuramente una mossa che per me risulta, lo ribadisco, vincente è ovvio che bisogna anche considerare quelle che saranno le offerte in termini di giochi e di esclusive che avrà Microsoft, Microsoft ha acquisito degli studi per cercare di creare dei prodotti in esclusiva staremo a vedere però se sarà così, staremo a vedere cosa ci proporrà però un prezzo così abbordabile per comunque coloro che cercano di non spendere troppo ed entrare nella nuova generazione è sicuramente un qualcosa che stuzzica e non poco poi sappiamo che Microsoft ha anche un ottimo servizio di abbonamento qual è il Game Pass che ci consente con 10€ al mese di giocare ad un catalogo ampio e vastissimo di giochi sia naturalmente della generazione corrente ma anche retrocompatibili insomma con prodotti delle primissime Xbox quindi davvero un'esperienza completa l'abbinamento insomma di questi due pacchetti quindi abbonamento Game Pass e una console a 300€ può risultare determinante sappiamo ovviamente qual è la carta vincente di PlayStation e di Sony insomma qual è stata in questi anni sono le esclusive Sony ha sempre proposto dei prodotti, dei titoli in esclusiva importanti e di grande livello che poi alla fine è quello che contano, i giochi sono quello che conta e quindi tante volte si va proprio a scegliere giustamente anche la PlayStation magari proprio per le esclusive e per i giochi che sviluppa però staremo a vedere come risponderà PlayStation staremo a vedere anche come continuerà la campagna di Microsoft se appunto oltre a queste ottime notizie come ho detto secondo me è veramente un'ottima notizia questa della Series S a 300€ se Microsoft anche sul fronte giochi e non solo sul fronte anche servizi col Game Pass eccetera eccetera riuscirà a fare un ulteriore step riuscirà a proporre qualche gioco in esclusiva che a quel punto insomma risulterà ancora più decisivo per la decisione finale fra chi deve scegliere insomma no? fra PS5, Xbox Series X o Series S comunque ragazzi questo era per fare un quadro generale della situazione sono usciti appunto prezzo e data il 10 novembre che non ricordo fra l'altro se l'ho detto all'inizio video ma uscirà il 10 novembre per l'appunto entrambe le console usciranno il 10 novembre ribadisco, ci tengo a ribadire questa è una mossa importante una mossa molto positiva da parte di Microsoft fatemi sapere cosa ne pensate voi insomma se questa di Microsoft anche per voi è stata una genialata oppure no fatemelo sapere nei commenti ovviamente io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto di lasciare un mi piace qui sotto se il contenuto è stato di vostro gradimento di dare un'occhiata alla pagina Facebook e soprattutto alla pagina Instagram noi come sempre ci vediamo alla prossima ragazzi un saluto a tutti da Spazio